Like a real cat Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo video, sono Cesare e oggi siamo ritornati per farvi vedere di nuovo la postazione Nel video dell'altra volta vi avevo fatto vedere la postazione di nuovo, vi avevo fatto vedere la postazione Però ora, che metto giusto un bel po' di cose Allora ragazzi, iniziamo subito questo video E niente ragazzi, allora, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina, così vi arriveranno tutte le notifiche di video e live Iscrivetevi anche al canale di Micanogelo Papassilio e Roccascone, vi lascio qui il link sotto in descrizione, mi raccomando ragazzi Allora ragazzi, intanto arrivo tra poco Ok ragazzi, siamo ritornati e ora vi farò vedere la mia postazione Allora ragazzi, aspettate un attimo Oggi non so se regisserò qualcosa perché è il mio compleanno Qua c'è stato 10 anni, oh mio dio Ma niente Allora iniziamo a vedere il primo monitor perché abbiamo messo bensì due monitor Non uno ma bensì due Allora questo qua è per fare video live su Fortnite Cosa è così Poi qua c'è la nostra bella play Qua c'è il ventilatore che ho avuto le scatole ma vabbè Qua c'è il telecomando per accendere questa tv Qua c'è il joystick Che ci salva sempre la vita Poi qua vabbè L'avete sempre, l'avete già vista da un bel po' di video questa bella tastiera Se riesco a togliere Se ne ho aspettato un attimo ragazzi Vi faccio vedere come Non riesco a togliere qua Eccolo qua La tastiera Eccolo Poi C'è Sono le cuffie per me che le attacchino Bocchiamo Qua al pc per sentire la live come si sente Se si sente male o si sente bene Poi raga Abbiamo Watch Dogs 2 Che sto facendo una live delle serie Questa qua Domani dovrò fare la seconda puntata di questa serie Watch Dogs 2 ragazzi mi raccomando Andate a tutte poterla e lasciate un bel like A quel video Poi C'è FIFA 18 E poi c'è Grand Theft Auto Poi Mi sento un attimo sulla sede raga Poi C'è Il mouse Con il tappetino Le cuffie Per mettere il joystick così Si sente live o in video Poi ci sono qui Le nostre belle casse Un'altra bella cassa E niente Poi qua Abbiamo fatto già vedere le cuffie Qua c'è il nostro bel pc Che non si vede una ceca Ma i dettagli sono quelli Poi ragazzi Siamo Nel pannello Di comando Ragazzi Se è così Si chiama E Qua Ora vi faccio vedere Vabbè Prima vi faccio vedere la sedia Da gaming E poi Aspettate un attimo raga Che qua c'è un casino amaro Di cose Aspettate eh Una cosa con volta Poi qua Vi faccio vedere Cavoletti Poi qua Qua sotto in bassa testa Qua c'è il mio pannello Di controllo Che posso vedere le live Posso sentire le live Posso cambiare E Di tutto posso fare E niente Poi qua abbiamo messo Una grafica C'è scritto Ci sarebbe al taso Ogni giorno video Alle 15 e 30 E Martedì venerdì Sabato live Ragazzi Le live Le faremo Alle 16 e 30 Alle 15 e 30 E porterò sempre Ogni giorno Un nuovo video Mi raccomando ragazzi Tanto abbiamo Qua 43 iscritti Spero che si vedi Ma vabbè Qua c'è tutti i miei video Aspettate un attimo raga Ci sono tutti 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 i miei video C'è quello di Watch Dogs 2 Fortnite Giochiamo a Blue Stars Fortnite Fortnite Live Live Poi qua C'è uno Pest 2020 Fortinet Blue Stars Fortinet Fortnite Fortinet La mia postazione E poi ci sono Altri video Ragazzi E Ci sono altri video E Vi faccio vedere La mia postazione E Fortinet E Provenire del Genneggio Comi Crancio Papacidaro Fortinet Blood Stars Blood Stars Fortinet 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 Io Fortinet Fortinet E niente ragazzi Allora ragazzi Per questo video è tutto Lasciate 4 like Per un prossimo video E se è la che faremo una live Come Crancio Papacidaro Per un prossimo video